Per chi non l'avesse vista, all'ingresso ci sono due fogli con le liste dei candidati, tra cui chiaramente anche i quattro candidati portavoce che adesso presenteremo, anzi si presenteranno e sarà possibile fare loro delle domande. Allora qui c'è un bussolotto per accogliere, per cercare di insomma in qualche modo coprire le spese che abbiamo sostenuto per questa giornata, quindi poi per chi volesse può venire qui e lasciare qualcosa. Allora, i candidati portavoce sono quattro e sono... Bernardo Bassoli, Pasquale Palmisano, Michela Zappullo e Anna Maria Guarnieri. Adesso lasceremo la parola a loro per non fare una breve presentazione, dopodiché già ci sono alcune domande e poi le lascio da alcuni di voi, poi ci sarà qualche altra domanda, cerchiamo di essere chiaramente, mi rivolgo sia ai candidati, quindi di essere sintetici sia nella presentazione che nell'eventuale risposta alle domande. Anche perché poi dovremmo cominciare la domande, ci sono alcune domande. Esatto. Prego, inizio io. Vedo che le domande sono parecchie ed è giusto, è bene così perché questa deve essere anche un'occasione per capire soprattutto le motivazioni di chi si candida e vorrei precisare che chi prima ha parlato ha specificato la forza del meetup, ma io vorrei porre l'attenzione sul fatto che chi entrerà dovrà coinvolgere ancora di più tutti i cittadini di Latina, perché noi da soli non ce la possiamo fare, chi entra dentro non ce la può fare da solo, non perché gli altri siano più bravi, qualcuno ha detto studieremo, è vero noi studieremo, ma quello sarà il minimo anche perché chi c'era prima di noi non ha proprio studiato e basta guardare alle varianti che abbiamo avuto, ai tocchetti delle pericolazioni, alle gravi sciatterie per utilizzare un termine caro al nostro questore De Matteis in ambito amministrativo, nonché alle cointeressenze tra le istituzioni e la criminalità locale, che esiste, non ha nulla a che vedere con la mafia, l'andrangheta e la camorra, benché noi abbiamo anche cosche camorristiche, anche di cosa nostra, vi basta aprire le relazioni dell'osservatorio regionale del Lazio che fino al 2009 stabiliscono che qui in provincia di Latina ci sono tutte le mafie, ma noi qui a Latina ne abbiamo una in particolare che è la famiglia o le famiglie Ciarelli di Silvio, di cui noi ci siamo occupati e dico con orgoglio che come forza politica, come meet up, come gruppo, ce ne siamo occupati per primi in questa città che faceva finta di dormire, non dormiva, faceva finta di dormire. Io sono qui dalla... dal 2011 come attivista ho vissuto appieno il meet up, le attività che si facevano all'interno di esso, scrivo e traduco nella vita e mi sono occupato di parecchie questioni in questi anni e ne esco sicuramente arricchito che chi ne dicano chi non conosce la realtà dei meet up e crede che noi siamo un branco di seguaci, di grillo o chi che sia, ma qui si lavora, si lavora ma nel senso più positivo del termine, perché si intraprendono delle battaglie politiche e si ha una conoscenza maggiore studiando i problemi della città, denunciando e proponendo anche delle soluzioni. La cosa che più mi ha fatto pensare in questi anni è che dal momento che io scrivo e ho scritto anche per il nostro blog Latina 5 Stelle che grazie a degli attivisti adesso è una vera e propria realtà a Latina perché abbiamo migliaia di lettori, è stata che quando tocchi i potenti di questa città non hanno neanche il coraggio di guardarti in faccia, te le mandano a dire, magari qualcuno ti minaccia, qualcun altro ti manda a dire che ti querelerà o magari ti querelano, ma nessuno ha il coraggio di venirti a dire in faccia quello che pensa, perché quando uno si espone e si espone con la forza e l'onestà non con la competenza, con questi miti di cui ben conosciamo le conseguenze, penso al governo molti, pensavamo di essere governati da un gruppo di marziani supereroi e abbiamo visto i risultati, qui serve il coraggio e l'onestà, l'onestà di mettersi in gioco e l'umiltà anche di studiarsi i problemi come qualcuno ha detto perché non serve, ripeto, non serve nessuna competenza particolare, non bisogna essere laureati alla NASA o avere dei master, io ho sia la laurea del master ma non serve veramente a niente, penso e concludo e poi passo la parola ai miei amici, perché di amici si tratta fortunatamente, a un provvedimento che ha preso il commissario Barbato e che fa capire che non serve veramente nessun tipo di competenza, c'era un campo di calcio che molti di noi conoscono e si trova a campo popuario che da anni veniva utilizzato dalla banda Don't Touch senza pagare il campo e neanche le utenze, il commissario Barbato ha visto che non pagava né il campo né le utenze e gliel'ha tolto. Ora io mi chiedo e vi chiedo quale competenza bisogna avere per fare questo atto, è un atto molto semplice e noi ne troveremo di questi casi quando andremo in comune, perché a differenza dell'opposizione che non ci è mai stata o dell'amministrazione nel caso in cui la città ci premiasse, noi potremmo da subito fare dei provvedimenti perché da subito troveremo cose che non vanno. Grazie. Buonasera a tutti, sono Anna Maria Perrieri, ho conosciuto il Meetup nel 2008 e entrai nel Meetup per l'occasione, ho necessità di maternale per la mia prima tesi di laurea, quindi facevo una ricerca su Culture Jammers e Beppe Grillo e le sue performance risultava tra costoro, per cui insomma, non so per chi non lo sapesse, il Culture Jammers sono quei gruppi che fanno delle performance artistiche che muovono per diritti umani, movimenti per la pace e quindi la salvaguardia dell'ambiente e tutto ciò che può essere positivo a dimensione umana. Poi insomma invece mi ci sono ritrovata dentro con tutte le scarpe, si può dire, così in una lontana preparai lo striscione per i grilli e le cigare di Latina, che però non so che fino a chi ha fatto, e quindi ho partecipato a diverse iniziative, recentemente ho dato un sostegno al tavolo di istruzione cultura e ho partecipato anche alla prima festa che abbiamo organizzato ai giardinetti. Scusate insomma l'emozione perché insomma sono un po' in difficoltà a me stessa ho detto ma chi me lo fa fare, devo essere sincera, però siccome credo che tutti noi siamo qui per un motivo comune, che se non ci rimbocchiamo le maniche per dare una svolta a questa città e una dimensione umana alla cittadinanza, credo che se non dipende da noi nessuno lo può fare per noi. Se ci lasciamo governare da chi ha soltanto interessi clienterali e personali non è certo predisposto a dare le risposte certe a quello che sono i diritti della cittadinanza. Io non ho delle risposte tecniche per quanto riguarda un'amministrazione, lavoro da molto tempo, dal 1979 a un centro per l'impiego, gli ex uffici di collocamento e questa cosa diciamo che mi porta a considerare un po' tutti i giorni la difficoltà e la drammaticità delle persone, cosa significa essere senza lavoro, cosa significa essere senza casa, cosa significa essere non avente diritto. Questa cosa mi sta particolarmente a cuore e sono convinta più che mai che nessuno debba rimanere indietro. Uno dei temi che credo bisognerà portare avanti e approfondire è proprio il reddito di cittadinanza perché è opportuno ed è giusto dare una pari dignità a tutti e pari opportunità a chiunque e dare la possibilità soprattutto un accesso alla cultura perché io sono convinta che i tre valori fondamentali di cui si possa costruire una società civile sono la pace, la cultura e l'educazione e su queste tre colonne fondamentali credo che si possa dare sviluppo a quello che può essere una dimensione umana, civile e giusta. Ciao a tutti, sono Vascuale Dormisano per chi non mi conosce e grazie. Dunque, da ieri che stavo cercando di capire, io lì poi alla fine dovrò dire qualcosa, dovrò dare un solco, un discorso. Da dove inizio? Mi sono arrovellato ieri sera, ieri notte non ho dormito, stantina uguale. Sono venuto qui, a parte che ho dimenticato tutto. E quindi adesso vado a braccio, vi prendete quello che c'è e quello che è rimasto. Dunque, sono sposato, ho quattro figli e sono venuto a Latina perché io mi sono lavorato a Napoli in ingegneria elettronica, ho subito lavorato a Marcianise, lì non c'erano strade, per cui per andare a lavorare ci mettevo un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Per tornare a casa, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, mi sono fatto due conti e ho detto, ma due o tre ore in macchina, tutti i giorni qua. Cioè, è possibile che dobbiamo spenderli così? E ho detto, no, me ne devo andare da Napoli e infatti me ne sono andato. Ho girato un po' per il Lazio, per l'Umbria, per l'Abruzzo e sono atterrato, diciamo, a Latina. Sono atterrato a Latina nel 1991, per cui, insomma, sono 25 anni, 24 anni e sono qua. Non sono nato, come qualcuno magari ha detto, sono nato, sono autottono, per carità di Dio. No, sono venuto da Napoli, sono napoletano e anche se il mio accendo è diventato romano. Voglio dire, cosa dire di cosa possiamo fare? Innanzitutto, innanzitutto devo dire per l'onestà, nessuno qui è nato politico. O almeno qualcuno ha provato e cercato, magari persone più capaci, che magari sono informate. Quindi, insomma, non abbiamo fatto una scuola di politica. Una volta c'erano le scuole di politica, non so se vi ricordate, no? E in cui, magari, bene nel mare, ci sono ancora, ma voglio dire, sì, le scuole di politica come rubare, eccetera, e quindi una buona scuola per chi si vuole andare. E quindi, chiaramente, noi abbiamo fatto, io ho lavorato, basta, come tanti di voi pensano a lavorare. Poi a un certo punto cambia, qualcuno che si chiama Giuseppe ti dice, guarda che la politica te la devi cominciare a guadagnare, in qualche modo. Io seguo con Beppe da, non me lo ricordo neanche più, a prima solo col blog, poi nel 2006, lo dico per chi magari non lo sapesse, mi scrive, perché ero iscritto al blog, mi scrive che a Latina era nato un meet-up, che si chiama Grille Le Cicale di Latina, è già col nome, a me è andato sempre, scusatemi, è un po' dopo, perché sembrava una cosa un po' bambinesca, Grille Le Cicale, potevamo, insomma, cambiare, dargli un nome di nuovo. Andiamo a Grille Le Cicale, se voglio partecipare, non ho partecipato all'inizio del 2006, il tuo prima del 2006 è arrivato 5-6, è nato qualche mese prima, qualche mese prima. Dunque, lì non ho partecipato subito, però seguivo, seguivo tutte le attività che facevano. Mi sono avvicinato sempre di più, perché poi nel 2011 ho visto che proprio non se ne poteva più, dovevamo dare un contributo maggiore, non avevamo nessuna bellità di arrivare a prendere qualche poltrona, lo devo dire onestamente, non c'è stato mai nella mia mente di fare qualcosa, di fare qualcosa di aiutare il gruppo. Io penso che il gruppo sia importante e quindi penso che la persona o le persone che vanno lì rimangono portavoce, lo dico a chi arriverà lì, si senta portavoce sempre, ci saranno dei momenti che deve prendere delle decisioni, molto velocemente, urgentemente, non ha la possibilità di mediarla la sua posizione rispetto alla soluzione del problema, lo posso capire e speriamo che prendano delle buone iniziative, però mediamente tutto il resto secondo me deve essere un meet up continuo, deve essere comunque un discorso unito, perché chi va là non ha la verità in tasca, la verità in tasca si può vedere soltanto da un'intelligenza collettiva. Quali sono gli argomenti che a me toccano di più sulla tira? Sicuramente il bilancio, il bilancio comunale dobbiamo subito andare a metterci le mani dentro, dobbiamo vederlo, dobbiamo studiarlo, dobbiamo capire quali sono i capitoli di spesa, poi chiaramente se andiamo come governatori della città è un discorso, se andiamo con opposizione sarà un'altra, ma in tutti e due i casi dobbiamo andare dentro. Il bilancio secondo me è importante, non la faccio nunca, avremo dei corsi sul bilancio probabilmente per chi riuscirà ad entrare. Per quanto riguarda invece i rifiuti, è il secondo capitolo molto importante, qualcuno l'ha detto, sui rifiuti dobbiamo metterci assolutamente le mani. Io personalmente ritengo ancora che dalla carta di Firenze rifiuti zero, rifiuti zero significa che i cassonetti per strada io non ce li vorrei più vedere, io vorrei proprio un porta a porta il più spinto possibile, questa è la verità. Come raggiungere quasi asintoticamente questo modello? Non lo so adesso, ce ne sono vari, ce ne sono anche alcuni elettronici, qualche cosa è stato fatto qui in maniera un po' che non è andata bene, il sacchetto con il numero, con i chip o quant'altro, si deve lavorare su questo argomento, però diciamo che la barra deve essere lanciata verso quella direzione secondo me, non dovremo mai perdere di vista questo. Sempre nell'ottica di migliorare sia l'ambiente ma anche la parte economica, se buttiamo tante di quella carta, tante di quella plastica, non si sa dove va a finire, probabilmente va a finire sotto terra perché l'oro poi alla fine, quanto più mettono sotto terra in termini di tonnellate e più vengono pagati, quindi perché dovrebbero in qualche modo fare un discorso diverso, quindi dobbiamo metterci là. Adesso c'è l'acqua, un altro capitolo ben seguito da Bernardo e ci sono tanti altri problemi al comune, c'è anche le persone che non riescono a raggiungere dei luoghi, va benissimo, però noi non siamo tecnici, non abbiamo le soluzioni per tutto, però sono sicuro che se il gruppo è coeso, e questo è importante perché il gruppo coeso, il gruppo, diciamo che è una persona sola, può veramente raggiungere i grandi risultati, questo movimento qui lo può fare, non lo so se gli altri partiti adesso lo possono fare, questo invece ha una capacità, ce l'ha, diciamo, l'U.S. Buonasera a tutti, sono Michela Zappullo, 85 anni, sono laureata in chimica e come dicevo, a Bernardo la laurea non sempre serve perché non ho mai fatto il chimico, ho fatto vari lavori sattuali, temporanei, per molto tempo disoccupata e attualmente sono di nuovo disoccupata, quindi mi sono avvicinata per caso al Movimento 5 Stelle perché ho partecipato, ho portato ad un'altra persona, ho fatto la mia prima riunione nel giugno del 2012 e lì c'erano alcune persone come Fabio, Gianluca, Alessandro, Marego, Rastente, Bernardo, ho trovato un bel ambiente perché ho trovato appunto delle persone serie, oneste, che lavoravano anche e ho vissuto per la prima volta, mi sono trovata catapultata anche dall'oggi al domani a fare l'esperienza delle elezioni regionali e nazionali e quindi ho vissuto anche oltre il Meetup di Latina e il Meetup regionali in un certo senso, quindi questa cosa mi ha tirato in questo nuovo mondo un po' sconosciuto e sono rimasta poi, infatti abbiamo portato avanti sia con Pasquale il tavolo di fiuti, dopo le elezioni sia nazionali che regionali abbiamo portato avanti il tavolo di fiuti, poi successivamente ho partecipato al tavolo sanità, abbiamo prodotto una serie di lavori e sinceramente io ho dato la mia disponibilità così come in tutti questi anni ho dato la mia disponibilità ai tavoli di lavoro, quindi non penso di valere in un certo senso più degli altri, le altre tre persone che hanno dato la disponibilità, proprio perché nell'ottica dell'uno vale uno, ognuno di noi quattro può fare il portavoce, cioè noi saremo lì solamente chi di noi quattro eventualmente arriverà a fare il portavoce, sarà solamente uno strumento, un tramite della voce non solo del gruppo, del Meetup, ma come diceva anche Bernardo della cittadinanza, perché non sempre il Meetup è in casa. Allora adesso si apre la famosa graticola, nel senso che ognuno di voi potrà fare delle domande a qualsiasi dei candidati, poi abbiamo delle domande già scritte qua, che saranno rivolte a tutti i candidati che vogliono rispondere. Quindi, prima queste? Possiamo anche farlo? Allora cominciamo con le domande scritte. Allora, chi vuole rispondere? Come gestiresti i dipendenti comunali? Chi vuole rispondere? Comunque scusate, vorrei rispondere tutti su certe domande, credo. Chi vuole rispondere? Sinceramente, dunque, quanto riguarda la normativa, perché penso che ci sia una normativa dietro, come tutti i contratti di lavoro, anche i dipendenti comunali che evidentemente ce l'hanno un contratto, una contrattazione. Per cui lì l'unica cosa che si può dire sui dipendenti credo che non ci si possa fare nulla, se non magari definirli meglio in termini lavorativi, nel senso di quali sono le competenze di entrare più nel merito. Però io penserei più ai dirigenti, perché vedo per esempio che molti dirigenti, specialmente a Pomezza l'avete sentito, c'è stato quell'attrito fra Fucci e i dirigenti, perché i dirigenti vedono una bella fetta di stipendio. Quindi anche lì, ripeto, bisogna andarci. E ci sta sempre questa dubbia valenza, perché una cosa è andarci come al governo della città, è una cosa è andarci all'opposizione. Se si va al governo c'è la possibilità di intervenire, chiaramente con le persone che già ci sono e già possono dare un contributo, però se andiamo all'opposizione penso che tanto non possiamo fare, se non altro che dirlo. non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere. Sì, noi abbiamo a proposito di questo fatto un incontro, è stabilito anche una comunicazione con i ragazzi di Pomezza che sono entrati nel comune e si sono da subito scontrati con una situazione da loro, ma temo che sia anche da noi abbastanza grave, nel senso che lì a Pomezza i dipendenti prendevano un premio di produttività soltanto per accendere il computer e quindi bisognerà vedere molto bene questi aspetti. Sappiamo tutti che i dirigenti non si possono rimuovere per questioni di meritocrazia, ma in questo Paese un dirigente per essere rimosso, deve essere forse neanche condannato in terzo grado, quindi sarà il compito nostro cercare di ruotare e stabilire dei regolamenti sulla scorta anche delle esperienze che hanno fatto i ragazzi di Pomezza e di cui ci hanno parlato. Loro hanno stabilito dei regolamenti, dei regolamenti da osservare perché da amministrazione noi non possiamo ordinare a un dirigente o a un dipendente quello che deve fare, ci sono dei limiti tecnici normativi, quindi chi nelle prossime mesi qualcuno prometterà che rimuoverà il dirigente più delinquente sta parlando di fuffa. Questa cosa non si può fare, noi dobbiamo essere molto onesti non soltanto nella nostra vita privata ma anche in quello che diciamo. Però possiamo stabilire dei regolamenti, possiamo accorpare, so che il Commissario Barbato ha già fatto un buon lavoro da questo punto di vista perché ha accorpato i dipartimenti, gli uffici e quindi possiamo puntare sicuramente a una razionalizzazione della spesa come va di moda dire oggi e cercare un accorpamento in modo tale da non celebrare la burocrazia contro la quale tutti noi cittadini ci siamo scontrati in questi anni. Personalmente avrò molta curiosità di capire che cosa avviene ai servizi sociali, perché in questi anni qualcuno ha parlato, Roberto D'Achille credo abbia parlato di emergenza abitativa e qui a Latina qualche problemino ce l'abbiamo anche perché sappiamo non da oggi che alcuni stabili sono stati dati a persone sempre di quel clan e quindi insomma mi piacerebbe capire il meccanismo che c'è dietro alcune assegnazioni. È tutto qui, grazie. 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 Questa è una bella domanda. Non è semplice rispondere onestamente. Coinvolgere i giovani significa creare dal punto di vista amministrativo dei punti di aggregazione di valore culturale, in modo tale da poterli anche sensibilizzare su quello che sono le emergenze e le necessità di un vivere civile. Tecnicamente non saprei rispondere al momento, ma credo che insieme noi faremo sinceramente delle cose giuste, come abbiamo sempre avuto lo spirito unito di voler elaborare i principi del Movimento 5 Stelle. Cosa farai in concreto per la cultura? Se ci rivediamo un minuto, queste domande sono interessanti. Chiaramente noi, se qualcuno mi ha detto che cosa pensi del lavoro, magari qualcosa avrei potuto anche cercare di dire. Sulla cultura devo essere onesto, sicuramente ci sono molte persone che sono molto più dentro il sistema, quindi possono dare dei giudizi e delle soluzioni. Mi rivolgerei a loro, sinceramente, perché magari posso avere un'idea, ma è parziale. Invece vedo qui una modrita rappresentanza anche del tavolo cultura. Ripeto, noi siamo portavoce, quindi alla fine l'unica cosa che possiamo fare è che non siamo statisti. Sicuramente non andiamo là con idee già preconfezionate, ma le dovremo sempre eventualmente verificare con le persone che sono nel campo, voglio dire, altrimenti questa è la forza del Movimento 5 Stelle. Qualche tempo fa, facendo parte del tavolo istruzione e cultura, mi ricordo che facevamo uno studio, un'indagine sui vari sistemi scolastici europei e mi colpì particolarmente ad esempio quello scandinavo, ovviamente, insomma, ma quanto sei lontana da un sistema simile, no? La cosa che mi ha colpito particolarmente il sistema scolastico scandinavo era quello che gli ultimi erano, insomma, considerati i primi nell'accesso alla cultura, no? Quindi io credo che il diritto alla cultura debba basarsi innanzitutto su questo, siccome nessuno debba rimanere indietro, dare la possibilità a tutti, a chiunque, di accedere allo sport. Lo sport non è un lusso in cui bisogna pagare fior di quattrini alle palestre perché il mito del corpo, no? Lo sport è un diritto. L'accesso alla cultura di ogni genere sono diritti costituzionali, non sono optional. Quindi credo che con una buona volontà e con capacità si possano creare dei punti di aggregazione validi. Scusate, io volevo fare un'osservazione, una cosa di servizio qua. Nel senso che se gente che vi dice che deve andare via, quindi non potrebbe fermarsi di votare. Se siete tutti d'accordo, quelli che devono andare via potremmo farli votare, già. Se non c'è nessun ostacolo, io direi di sì. Sì, sì, ma le domande le facevo in ogni caso. Quelli che devono andare via, stavo dicendo, le domande si parlano tutte. No, 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 la domanda. Cioè, devi andare via pure tu. Ma noi magari facciamo la votazione. No, no. Ma lo sai che è la presenza. Ma lo c'è? Ma lo c'è? Le domande le devo votare. Ma non ho quattro ore per iniziare la votazione. Siamo tutti i dati. Allora, va. Scusate, al di là... Allora iniziamo. Al di là... Sì, dobbiamo finire di spiegare questa che abbiamo aperto. Al di là degli impegni di persone, io lo capisco, assolutamente. Però qua stiamo parlando di quattro portavoce, di quattro sindaci. Insomma, è bene pure conoscerli un po' meglio, secondo le domande che avete fatto. Avete fatto le domande, probabilmente siete interessati. Poi, ovviamente, se c'è un impegno improrogabile, vediamo di farvi votare. Però ci stanno quattro aspiranti sindaci, uno di loro forse sarà sindaco di Latina fra qualche mese. Scusate, faccio sempre l'antipatico, scusate. No, 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 no. Ma allora, vediamo che cosa vuole fare la parola. Decidiamo di farlo votare. Ma sì. Sì, sì. Ma scordi, da un programma, ma che sei inizio? No, no, no. Stiamo perdendo minuti preziose. Vediamo di farvi votare. Un quarto d'ora, ce la fa. È possibile? Sì, se vanno i 10 milioni. Un quarto d'ora si possono fare parecchie domande. Eh sì, andiamo avanti. Sì, possiamo però ottimare. Un quarto d'ora manca. Allora. Lui voleva fare una domanda. Può fare una domanda adesso? Sì. Mi scappa? Mi scappa. Non ce la fa. Mi scappa. 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 In relazione al referendum del 2011 che approga l'acqua privata in Sala, insomma, che dovrebbe essere anche un diritto, cioè che è un diritto scritto nella Costituzione. L'acqua è pubblica. Adesso, acqua latina è uno dei primi esempi di privatizzazione vera e propria sul territorio. E in questo senso, visto che nel 2020 scale la concessione, secondo il probabile candidato sindaco, c'è un modo per iniziare a liberarsi prima da questo cappio che ci hanno messo al collo perché siamo in una situazione di acque che non vengono depurate e la depurazione viene pagata comunque. La situazione ambientale si degrada, si vede nelle campagne i canali fossi come stanno messi e questa è la prima cosa perché secondo me l'acqua viene dalla ponte ma poi la dobbiamo rimettere da qualche parte. Ecco, il discorso della circolarità, come viene affrontato nel senso dell'acqua, visto che siamo circondati dal mare, ci sono i laghi e siamo in una zona umida, è fondamentale questa cosa. Ex valute. Esatto. E hanno appiazzato le mollette. Sì Fabio, grazie per la domanda. Hai fatto un bel mix, perché i fossi, dipende, molti di quelli che chiamano i fossi sono di competenza del Consorzio di Bonifica per esempio, che tra l'altro è creditore di acqua latina. Sì, circa 4 milioni. Guarda, se noi riuscissimo a esprimere un sindaco, avremmo una grande opportunità di andare all'assemblea dei soci a quella latina e far valere finalmente, per la prima volta, perché mai è successo, a parte qualche comune, faccio riferimento ad Aprilia che grazie a un comitato che hanno lì molto forte, ha imposto alcune scelte al comune, che per dovere di popolarità ha dovuto per forza accettare. Quindi noi se dovessimo esprimere il sindaco avremmo veramente una possibilità di andare in assemblea dei soci a quella latina e far rispettare le regole e far soprattutto un po' di luce su scelte veramente vergognose, perché in questo momento tutti sappiamo che c'è stata una farsa incredibile per le nomine e attenzione non è soltanto una questione di nomine, perché poi dalle nomine discende tutta la governance e tutto quello che sappiamo e che va a discapito di noi cittadini. Le nomine che sono state fatte a quella latina sono una vergogna nazionale, perché hanno preso per il culo tutti quanti, scusate la parola, ma è veramente una presa per il culo, e facendoci credere che avrebbero nominato persone per merito, per trasparenza, mi piace ricordare che siamo stati noi a dirlo all'inizio a luglio, perché è bastato, tornando alla questione delle competenze, è bastato leggere il disciplinare di gara, non serve il super esperto delle acque, è bastato leggere il disciplinare di gara per sapere che cosa sarebbe avvenuto adesso, e noi già a luglio avevamo capito che sarebbe stato riconfermato a Tessi, sarebbero stati rimessi i soliti trombati o comunque amici di politici, tra l'altro ancora di più sappiamo che c'è stata una lottizzazione e fatta anche male, perché ci sono i revisori che si sono dimessi tutte e tre, sono stati nominati e poi sono stati dimessi, perché si sono dimessi? Si sono dimessi perché sicuramente non hanno avuto l'avvallo dei loro padrini politici, e quindi si sono dimessi, se noi riuscissimo a esprimere un sindaco, queste cose non so se cambierebbero, perché come hai detto giustamente te c'è un contratto con Acqua Latina, e dipende sul comune di Latina tanti soldi, perché noi abbiamo sottoscritto un mutuo, sempre senza essere interpellati da nessuno, noi abbiamo avuto degli amministratori che hanno sottoscritto un mutuo, hanno messo una fila di riuscione, nessuno ci ha detto niente, e quindi abbiamo delle grosse tagliole, chi prometterà in campagna elettorale la pubblicizzazione dell'acqua in un mese, dice delle balle spaziali, che bisogna combattere con tutto quello che abbiamo, perché noi non dobbiamo, ripeto, vendere fumo, ma essere molto realistici su quello che andremo a fare, però ripeto, se riusciamo a esprimere un sindaco possiamo fare molto, perché andremo direttamente in assemblea dei soci, grazie. Non pensate, o non pensi, che la mancanza di una maggiore coordenna all'affermazione del Movimento 5 Stelle Latina, forse era necessario sforzarsi di più? Lo prendo io per un discorso, perché l'ho vista che l'unione fra i meetup si poteva fare, si poteva realizzare, chiaramente non ci volevano volontà di farlo, tutte le cose, volere e potere, insomma lo dico io, lo sapete benissimo, quindi se si voleva fare l'unione si poteva fare. Eventualmente ho visto che però politicamente ci sono stati degli attriti e questi attriti poi mi hanno convinto che, diciamo, purtroppo non pensate che sia una polemica per carità, però ho visto che lì non si riusciva a scavalcare questo problema, questo fosso, e tant'è che io nell'altro gruppo non ci sono più, ci sono ancora iscritto, però voglio dire la politica la sto facendo nel 256 classico, perché vedo che qui si mettono da parte i problemi personali, perché io lo dico in politica l'amicizia non ci dovrebbe essere, perché in politica dobbiamo fare i professionisti e dobbiamo avere impegni da portare avanti, impegni che dobbiamo fare per tutti. Invece molte persone lavorano molto spesso in politica per amicizia o anche odi verso altre persone. Anche in questo caso io penso che se uno è in Movimento 5 Stelle e vede il quadro d'insieme è anche l'obiettivo finale, non può vedere che magari quella persona mi ha risposto male o non mi ha risposto male. Questo è abbastanza infantile, non so se mi spiego. Quindi è chiaro che non si poteva fare politicamente, quindi qualcuno mi dice no ma potevate raggiungere. Signori, dal gennaio, scusate, dal giugno non ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche il taglio dell'erba insieme, abbiamo provato, non è che non ci abbiamo provato, però l'abbiamo visto che c'era qualcosa che non riuscivamo ad andare avanti. Quindi eravamo bloccati là e intanto le amministrative si avvicinavano e noi abbiamo cercato di tutti i modi, qualcuno di me è testimone, di aspettare loro in Assemblea Generale che non sono venuti, abbiamo fatto le commissioni elettorali insieme, abbiamo Marco che viene da 5 stelle latine in movimento, adesso magari ci va di meno là, gli hanno fatto un po' di ostracismo, insomma lui viene da là, non abbiamo una preclusione, questo volevo dire, non so se gli altri vogliono aggiungere qualcosa. Brevemente, è inutile ripercorrere tutte le vicissitudini perché non interessano a nessuno, a breve avremo una lista certificata 5 stelle e ci sarà un unico movimento a latina e questo è quello che conta. Hai un'idea per sostenere in qualche modo gli sforzi dei pendolari sulla linea F.S. Roma-Napoli e sulla pontina. Ci sono due città, vogliamo insieme. No, c'è questa, per riguardare il collegamento, non capirò la domanda. La domanda dice, scusate, per sostenere gli sforzi dei pendolari che vanno ogni giorno a Roma, e poi sulla pontina non saprei cosa vuol dire, francamente. Cioè, che forma è forse? C'è questa riabilità. Vabbè, volevo solo dire che noi come Meetup abbiamo collaborato con il tavolo mobilità, collaborato con il comitato, con l'autostrada tordecenci latina, quindi per quel che compere il comune di Latina riguardo a quell'opera è normale che se noi dovessimo entrare in comune continueremo a portare avanti quella politica, cioè la politica di opporci alla costruzione di questa autostrada inutile, anche perché poi l'unico collegamento per Roma diventerà praticamente a pagamento. Per quanto riguarda la linea Napoli-Roma è quel che al massimo come comune si potrebbe migliorare per quanto riguarda la sicurezza nello stalo. Tipo, io vedo quella specie di struttura davanti alla stazione abbandonata che è stata costruita, secondo me potrebbe essere trasformare invece che tenere la chiusa a marcire in un piccolo anche gabbiotto di servizio dove tenere la polizia municipale con qualche poliziotto perché ultimamente di sera la stazione è vivibile. Sì, colgo l'occasione per dirvi che alle ore 18 iniziamo le votazioni, come da accordi. Ok, che siamo? Una domanda. Magari chi non ha mai parlato, non per scavalcarsi, Dario. Qualcuno nel fondo ha alzato la mano? Ho visto una mano alzata. Chi è? Vinicio? Sperati. Vieni. La mia domanda è molto semplice, visto che si parla di viabilità. E' risposta sintetica possibile. La nostra posizione riguardo la fantomatica metropolitana leggera che passa sopra la linea principale dell'acquedotto di Latina, che molti forse non lo sanno. Brevemente perché purtroppo servirebbe un'ora, un'ora forse. Noi abbiamo collaborato con il Meetup, con il comitato Metro Bugia di Massimo De Simona, abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare, quindi la posizione si sa qual è. Il problema anche lì, bisognerà andare, lì sarà un problema molto spinoso, perché c'è a Monte, anche lì c'è un'altra vergogna nazionale fatta dall'amministrazione Zaccheo, perché hanno calcolato un prezzo smodato per ogni chilometro. Cioè hanno calcolato per chilometro, hanno messo che la regione avrebbe dato 7 euro, se non erro, e quando invece la regione le risponde che al massimo è da 1,5, forse 2, se proprio lo stiracchi. Quindi anche lì, lì anche ballano parecchi soldi e dovremmo andare in comune e, ripeto, se dovessimo essere amministrazione, perché se sei opposizione senza prenderci in giro non potremmo fare molto. Se non scavare ancora di più in qualcosa che però bisogna dire che con alcuni comitati, cittadini, è stata ben sviscerata. Non mi sento di dire di più perché, ripeto, lì è una situazione spinosa come ce ne sono altre. Penso alle terme, penso alla cittadella giudiziaria, a tante altre cose che ci pendono sulla testa come cittadini. Innanzitutto, prima delle esecuzioni tecniche, dovremmo essere però in grado di informare tutti quanti di quello che è successo, perché il dramma, e lo ripeteva qualcuno, è che la maggior parte dei cittadini non conoscono queste situazioni. Dalla metro alle terme non le conoscono e questo è il più grave delitto perché, come diceva qualcuno, con un slogan, ogni tanto uno slogan, io ho bene, il cittadino è un soprano quando il cittadino è un formato. Grazie. Allora, adesso andremo chiaramente avanti con la graticola dei portavoce, però siccome sono le ore 18, quindi apriamo il seggio per le votazioni. Quindi spiego un attimo come si vota. Poi ci saranno due schede, la prima per i candidati di portavoce e la seconda per i consiglieri. Quindi quando dovrete a votare vi saranno consegnate queste due schede. La prima dei portavoce troverete quattro nomi, si possono dare due preferenze per ogni votante, cioè due preferenze del massimo, quindi si barra vicino al nome del candidato la preferenza. Dopodiché c'è la seconda scheda, quella per i candidati consiglieri, in cui ci sono delle righe dove si può scrivere il nome e il cognome del candidato consigliere. Anche qui le preferenze sono massimo due. Dentro, che si voterà dentro quella stanza, c'è la lista che è la stessa che trovate all'ingresso, in cui ci sono tutti, ci sono 40 nomi, cioè 40 candidati. All'interno di questi 40 nomi ci sono anche i quattro nomi dei candidati portavoce. E' importante fare attenzione su questo aspetto. I candidati portavoce, che voterete quindi nella prima scheda, chiaramente entrano a far parte anche della lista dei candidati consiglieri. Quindi, dare il voto per il candidato portavoce non vuol dire darlo anche per il candidato consigliere. Quindi, se io voto un candidato portavoce, quel candidato non entra automaticamente nella lista dei consiglieri, perché poi ci sarà una seconda fase, cioè quella in piazza, in cui i candidati più votati oggi andranno in piazza e ci sarà una votazione aperta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Latina. Quindi, per ricapitolare, prima scheda, si votano i candidati portavoce, due preferenze massimo. Nella seconda scheda invece ci sono delle righe, qui si deve mettere nome e cognome, la lista la trovate dentro, e chiaramente se volete ribadire la votazione anche per i candidati portavoce all'interno della lista dei consiglieri, la dovete esprimere e scrivere anche il loro nome. Quindi non è automatico, ripeto, che il candidato portavoce venga automaticamente inserito nella lista dei consiglieri, perché il primo che esce dalla votazione in piazza sarà il candidato portavoce, gli altri saranno esclusi, però potranno rientrare nella lista dei consiglieri. Quindi questa cosa è importante. Se ci sono dubbi, vi venite a chiedere, insomma, a me le spiegazioni. Si può votare anche una sola persona, sì? Sì, il voto è massimo due preferenze, si può votare anche una sola persona. Chi può votare? Chi può votare? Sono tutti gli iscritti ai meet-up al 30 maggio 2015. A tutti i meet-up di Latina. Il comune è di Latina. Del comune è della provincia. Del comune è della provincia di Latina. Quindi, chiaramente, chi dovesse avere urgenza di andare via, quindi in questo momento può venire qui, una alla volta, da Stefano e Orazio e viene, insomma, verificato chiaramente se avente diritto al voto e poi può votare. Intanto noi adesso proseguiamo con la credicola. Grazie. È tutto chiaro? Posso continuare, intanto? Secondo un tuo parere personale, quale caratteristiche deve avere un candidato sindaco per dirigere un comune così difficile come quello di Latina? Beh, se è facile. Signori, scusate. Per cortesia, silenzio. Cerchiamo di, però, ritornare all'ordine per proseguire con la credicola. Grazie. Beh, un candidato sindaco in una città come Latina credo che sia veramente impegnativo. La caratteristica principale è che deve avere una grande imparzialità, trasparenza, onestà e capacità di fare. e quindi soprattutto di sapere organizzare con i cittadini che fanno parte soprattutto del Movimento 5 Stelle. Si è sentito? Non si è sentito? No, no, no. Ah, posso, devo rivedere, chiedo scusa. Dicevo che, insomma, essere candidato a sindaco in una città come Latina, io ricordo una frase di Francesco De Gregori, un vecchio album che diceva, che definiva Latina la grande città del nord rispetto al sud è perché capomafia, diciamo, sotto certi aspetti è quello che accade sempre, diciamo, con le cosche mafiose e camorristiche del meridione, no? Quindi, insomma, questo credo che la dica un pochino tutta, no? Poi le ultime vicende di Don Tach ci hanno fatto capire, insomma, penso, quello che è la nostra città. Quindi, come debba essere il candidato a sindaco in una città del genere significa avere tanta buona volontà, tanto coraggio e soprattutto la capacità di lavorare con la massima trasparenza e onestà e supportati da splendide persone che sono i partecipanti del Movimento 5 Stelle. No, devo aggiungere che secondo me bisogna avere il coraggio e il coraggio di fare anche scelte infelici. Cioè, del tipo non si può sempre accontentare tutti, quindi delle volte le scelte, quelle che al momento sembrano quelle più infelici, meno belle, sono quelle che invece poi servono per poter dare e vedere risultati migliori se non guardare. Allora, giusto una precisazione rispetto alle votazioni. Adesso quindi ci sarà la votazione dei candidati portavoce e dei candidati consiglieri. Poi, come riportato nell'ordine del giorno, in caso di eseguo delle ultime posizioni sarà prevista un'ulteriore votazione, quindi chiaramente chi può rimanere è meglio che rimanga, perché poi ci sarà probabilmente un'ulteriore votazione. E chiaramente poi ci sarà una cena. Allora, il portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle ha la prerogativa dovere di servire la cittadinanza. visto quanto accaduto a livello nazionale con la dipartita dei senatori deputati del Movimento, quale potrebbe essere la condotta di tutto il gruppo consigliare affinché non accadono più tali spiacevoli situazioni? Mi ha fatto un po' sorrire perché di partita è un po' esagerato. No, ma come detto tante volte la decisione dei tre ex portavoce è stata una decisione personale non condivisa dal gruppo e peraltro io almeno personalmente ho sempre assunto una posizione molto ninta perché pur rispettando il fatto che si sarebbero dimessi e purtroppo qualcuno non si dimette più e questa è una cosa molto grave a mio modo di vedere ho sempre detto che non solo non condividevo il fatto che si fossero dimessi ma non condividevo anche le modalità cioè nel senso che è stata presa una decisione unilaterale senza coinvolgere un gruppo per quanto riguarda il Comune sarà molto più semplice perché il problema che si ponevano questi portavoce chi si è divesso è perché loro avrebbero dovuto coinvolgere un collegio intero nel caso dei senatori una regione intera perché il collegio era Lazio e nel caso del deputato quattro province noi invece dovremmo coinvolgere una città e quindi sarà più facile anche perché ci proponiamo di cambiare il rapporto fra cittadino ed eletto cioè nel senso chi voterà Movimento 5 Stelle non è che poi si mette in poltrona e fa fare quello che pare a loro a chi viene messo dentro le istituzioni ma ci dovrà essere un rapporto continuo fra il cittadino ed eletto è più importante il cittadino che l'eletto e quindi dal momento che ci proponiamo di cambiare di invertire di segno questo rapporto sarà più facile del controllo da parte del cittadino che sta fuori nei confronti del cittadino che sta dentro grazie grazie se avete già due preferenze per i consiglieri e due preferenze per i portavoce pensateci mentre state infesi solo per una questione di tempo grazie puoi formulare una proposta per sconfiggere la corruzione c'è solo una soluzione la rastrenza brava è semplice aggiungo anche che possiamo adesso con l'ANAC di Cantone ho visto che c'è un no a parte sì che viene utilizzato un po' per tutto però in realtà studiando alcune situazioni ho visto che i comuni volenterosi possono avere un filo diretto con questa nuova Autority che in alcuni casi ha funzionato con tutti ovviamente i problemi connessi alla evoluzione per quanto riguarda l'evoluzione finisco qua perché ci sarebbe anche più parlare un'ora ma lascio la parola a Anna Maria se vuole no io volevo aggiungere soltanto questo noi abbiamo una spredita Costituzione quando fu elaborata negli anni 40 forse un po' tutta l'Europa ce l'ha invidiava perché insomma è basata su principi fantastici trasparenza secondo me significa rifarsi ai principi della nostra Costituzione semplice quindi sono d'accordo con Michela e anche con quanto sotteneva Bernardo allora cosa intendete intendete proporre per migliorare in favore di tutta la cittadinanza le condizioni delle donne della tira e il burca dai uomini allora io dico solo che vabbè i problemi delle donne sono in alcuni casi sono leggermente rivasti da quelli degli uomini poi i problemi dei cittadini in genere perché è vero che una mamma ad esempio senti di più il problema dell'asilo nilo ma l'asilo nilo è ancora il problema del papà e della mamma al massimo per le donne posso immaginare delle differenze sull'accesso per quanto riguarda la sanità ma come ad esempio la donna deve avere diritto a degli screening riguardo a delle malattie tipiche oltre una certa età la stessa cosa vale anche per l'atto sesso secondo me nel senso così proprio a impatto io non riesco in certo senso a discriminare e a dire c'è una politica rosa o una politica in seguito agli uomini secondo me se uno lavora nell'interesse dei cittadini tutti lavora automaticamente anche nell'interesse delle donne per siderare anche la condizione delle donne questo è tutto al massimo che ne so potenziare alcuni servizi particolari quali possono essere di punti di ascolto contro la violenza delle donne dei consultori recenti di ascolto di supporto psicologico per delle situazioni particolari soprattutto di dove c'è povertà che sono diciamo le focolai diciamo del disagio sociale poi a parte questi casi particolari non riesco a fare proprio un distingo volevo soltanto aggiungere che qui nei portavoci non sono solo maschi ma ci sono 50% maschi e 50% tutti qualcosa vorrebbe significare anche questo no? grazie qual è il problema più urgente da risolvere immagino per la mia io l'ho spiegato l'ho spiegato nel senso che io mi pongo come padre di famiglia la cosa di un padre di famiglia è l'amministrazione di casa voglio dire certo aiutato dalla moglie però voglio dire la cosa importante è questa io spero che entrare lì nel sistema significa cercare di fare una buona amministrazione non dobbiamo inventarci chissà cosa dobbiamo solo amministrare bene la città e sono sicuro che alla lunga noi possiamo avere dei risultati oggi invece abbiamo visto insomma uno sciagallaggio no? spese fatte a fronte di qualche altra cosa sui piani di spesa perciò io partirei dall'amministrazione sinceramente dal bilancio della cosa poi chiaramente anche tutti gli altri argomenti sono importanti ma quello lo vedo almeno per quanto mi riguarda ma poi mi affido chiaramente ai vari attivisti comunque alla cittadinanza a quello che propone sul nostro programma che ricordo che sta da fare non è ancora completo come pensate di dominare gli assessori allora vedo subito che ci si interessa di portrone quindi è importante anche no noi potremmo pensare di fare tante cose con gli assessori e mi sento di dire che innanzitutto la decisione dovrà essere per forza di cose collegiali nel senso che dovrà coinvolgere il gruppo il meetup e chi vorrà partecipare chiaramente possiamo utilizzare o il metodo di un bando pubblico come è stato utilizzato in alcune amministrazioni 5 Stelle oppure fare una scelta tra alcuni nominativi non si può fare la graticola dei candidati a sindaci in queste condizioni c'è troppa confusione non mi piace non mi piace tra queste quattro persone ci farà per me spero il punto di ma non l'accetto no ragione da qui in poi stiamo vedendo delle iscrizioni non mi interessa bisogna avere silenzio perché stiamo riprendendo queste potrebbero andare a finire anche sulla tv nazionale se esce il sindaco di Lodina io così se mi piace siamo noi che ne sobbiamo no dico in generale che cosa chi va chi iscrive no va bene va bene è giusto anche no perché se no quindi potremmo procedere sicuramente o a un bando pubblico come ho già detto oppure una scelta di nominativi e poi scegliere lo ripeto sempre collegialmente non dovrà essere la scelta di un uomo solo al comando e ritengo che la terna dei papabili debba essere selezionata dalla cosiddetta società civile non possiamo fare scelte interne tra di noi altrimenti saremmo attaccati sicuramente ma anche giustamente perché potrebbe essere vista come una scelta interna oppure dare il posto a qualche amico a qualche sodare quindi sarà importante e con il bando pubblico sicuramente avresti questo risultato ma anche con una scelta di nomi e poi condivisa da tutti ma pescare senza ombra di dubbio dalla cosiddetta società civile anche perché in Qualadina ci sono competenze persone per bene che anche che non partecipano ai meet up che non sono in movimento ma sono persone per bene persone competenti quindi abbiamo un ampio spettro di scelta questo è per chi già lavora tornerai a fare il tuo lavoro dopo il primo mandato non capisco perché dove è il primo perché ce lo sentiamo a sapere come io conto di andare in pensione ma forse credo insomma che sono prossima alla pensione anch'io comunque non lo so non mi pare insomma tu hai mandato puoi farlo tranquilla la volta è letta sindaco io mi auguro di trovarlo in lavoro infatti è stato la felessa quale sarà il tema portante della tua campagna elettorale allora non penso che lo deciderò io quindi parto e quale sarà il tema portante della nostra campagna sarebbe un insulto al movimento intero se noi avessimo un tiero di turno che porta avanti che poi la cosa prima qualcuno l'ha citata il piano regolatore a cubatura zero di tiero è un po' come se si freddi si occupasse di castità insomma perché veramente è qualcosa di hanno una faccia molto comunque io credo che il nostro tema più importante sia senza dubbio la legalità perché ne sentiremo di tutti i colori durante la campagna elettorale e bene o male tutti tirano le stesse cose appunto c'è Tiero che parla di piano regolatore a cubatura zero sto parlando di Tiero cioè un personaggio che viene da Forza Italia e che ha il partito che ha lottizzato la città da vent'anni a questa parte e il simbolo è quel palazzo all'entrata di Latina famoso palazzo malvaso con la bandiera di Forza Italia che sventolava e quindi noi tutti tirano le stesse cose e la differenza la farà la credibilità io credo che noi siamo più credibili il campo in cui siamo in assoluto più credibili è quello della legalità primo perché abbiamo fatto delle battaglie prima di tutti quanti parlavamo delle vicinanze tra il clan e l'onorevole maglietta ben prima di tutti quanti adesso ci sono persone che potrebbero fare molto si trovano in commissione antimafia parlamentari pontini che non fanno nulla e quindi noi su quel pensante abbiamo una credibilità che gli altri non hanno e e poi ripeto il nostro cavallo di battaglia sono le battaglie che facciamo da sempre quelle che possono essere rintracciate nelle famose 5 stelle acqua mobilità e tutto quanto però ripeto sulla legalità io credo che abbiamo un gallone in più rispetto a tutti quanti sono tutti super salte la legalità siamo agli sgoccio poi se qualcuno c'è qualche altra domanda ne sono tre ti impegni per pubblicare facilmente i testi in votazione e come voteranno tutti i consiglieri nostri e non anche i streaming e poi qual è la priorità maggiore fra le seguenti rifiuto lavoro social e turismo sono due domande in una a me mi piacerebbe l'ho visto già l'ho visto in una foto adesso non mi ricordo quale comune praticamente a ogni consiglio comunale loro hanno uno schermo all'esterno del comune e la loro diciamo riunione la fanno vedere a tutti i cittadini quindi noi lì al consiglio abbiamo visto abbiamo pochi posti quindi portare avanti anche questa cosa che non è importantissima la facciamo domani che possiamo fare tra un mese o due poi ripeto sempre se ce la fanno fare con l'opposizione però penso che comunque avvicinare qualcuno ha detto ai ragazzi come si potrebbero far avvicinare la politica ma anche questo sistema magari uno passa in strada si sofferma a sentire anche quello che avviene all'interno dell'istituzione quindi ecco questo potrebbe essere anche un motivo noi dobbiamo entrare con le telecamere questo era un vecchio diciamo di Beppe Grillo quando diceva quando lanciava la campagna fiato sul collo non so se vi ricordate nei comuni carabinieri la polizia che veniva chiamata perché qualcuno portava una telecamera ecco io avrei piacere di portare un grande schermo fuori il comune e quando c'è il consiglio farlo trasmetterla all'esterno io credo che siccome parliamo di democrazia partecipata il consiglio comunale deve essere a porta aperte quindi aperto alla cittadinanza quindi o schermo o comunque con la partecipazione intensa di tutti i cittadini credo che sia una cosa fondamentale perché lo spirito del nostro movimento è la trasparenza quindi è in questo ma che bisogna fare adesso no quindi chiarificamente già esiste lo streaming per i consigli comunali che sono aperti comunque e purtroppo funziona male lo streaming ma per questioni di connettività è una delle stelle del Movimento 5 Stelle quindi dovremmo sicuramente migliorarla possiamo fare qualcosa di più sul versante delle commissioni perché le commissioni spesso non sono riprese non c'è lo streaming nelle commissioni e quindi chi entrerà dovrà fare una battaglia affinché le commissioni siano riprese al netto del fatto che poi purtroppo alcune decisioni non vengono mai prese nelle aule istituzionali ma vengono prese a cena e che anche questo dovrà essere combattuto attraverso la nostra battaglia di trasparenza posso fare una domanda pure io che ricordo che fino alla scorsa legislatura c'era come pagata dal comune una signora spagnola non so se la ricordate tutti quanti che si interessava praticamente dei progetti europei e veniva pagata questa signora la bellezza mi pare di 100 mila euro l'anno ora non vi sembrerebbe il caso di ritornare ad avere un ufficio che si occupi di questi progetti ma non assumendo la signora spagnola chiaramente ma assumendo 3-4 ragazzi che a 10 mila euro ciascuno riescono a farci avere dei progetti a farci entrare nei progetti europei quasi a costo zero no sì sarebbe bellissimo Marco bisogna vedere innanzitutto la pianta organica è quello che se Titano la possi per voler assumere quindi sarebbe molto bello però bisogna vedere se c'è la possibilità di farlo la signora la faceva soltanto perché era amica di qualcuno e cerchiamo di parlare con i ragazzi chiaramente penso come poco fa sosteneva Pasquale Parmisano la cosa fondamentale è studiare il bilancio perché è dal bilancio poi che si può capire quali sono le iniziative più giuste da fare ecco c'è una domanda dove e come troverai le risorse economiche per far rinascere la città dai costruttori a lui è una domanda importante è chiaro che oggi non credo che qualcuno abbia diciamo un'idea di cosa andiamo a trovare lì bisognerà lavorare ripeto dall'inizio che ve l'ho detto io sull'amministrazione vedo innanzitutto di cercare di renderla diciamo non dico risparmiosa perché voglio dire sicuramente troveremo un sacco di negatività sul bilancio però dovremo anche cercare di capire come piano piano come sta facendo anche Bucci molto bene a Pomezza come cercare di farlo arrivare almeno a pareggiare zero questo bilancio e quindi questo sarà già un discorso molto grave che dovremo ripeto poi dipende anche se lo facciamo da opposizione lo dobbiamo fare da governo quindi sono due cose completamente diverse se da governo certo non possiamo sparare più di tanto voglio dire la cittadinanza ma comunque dovremo cercare anche di risparmiare su qualche voce quindi dovremo entrare nel sistema se non entriamo nel sistema non possiamo capire dove poter metterle a parte abbiamo le ultime due domande come pensate di mantenere i rapporti con il meetup ed il rapporto costruttivo con il tavolo di lavoro e la cittadinanza ma è corpo unico cioè come non credo che ci possa essere una risposta a questo è corpo unico o sia dentro l'amministrazione o sia fuori si lavora comunque insieme semplicemente continuando a partecipare alle riunioni ai tavoli come abbiamo sempre fatto fino ad ora l'ultima domanda questa è una bella domanda perché meritocrazia cosa significa per te è prioritaria nelle tue intenzioni di governo questa sconosciuta merito grazie è vero ma è chiaro penso che sia domanda importante ma la risposta è abbastanza ovvia il problema lo ripeto a questa domanda chiunque risponderebbe sì noi siamo per il merito la differenza il discrimine è nella credibilità quindi noi dobbiamo essere molto attenti e vigili sul merito la trasparenza la partecipazione adesso parlano tutti di partecipazione tutti fanno il gazzepo ci sarà una ci sarà una mucchiata tutti lo diranno tutti ne parleranno ma noi dobbiamo essere bravi a far passare il messaggio che siamo soltanto noi quelli in realtà lo siamo non perché dobbiamo costruire un messaggio artefatto siamo soltanto noi quelli che per anni abbiamo parlato di questi temi molti di noi sono sicuro che sono venuti qua proprio perché non si vedevano riconosciuti nella cosiddetta società civile prima mi è piaciuto molto l'intervento di non mi ricordo chi che parlava di merito e ecco di Simone Simone che dice lui ha 25 anni io a 25 anni quando avevo 25 anni come lui sono partito sono andato a vivere a Londra ed è ed è un delitto questo perché se i giovani sono costretti a partire qua a Latina io ne conosco tantissimi e io sono un esempio vivente perché sono stato due ho vissuto in ben due paesi esteri in Inghilterra e in Germania significa che qualche problema c'è e mi ricollego un'altra domanda per i giovani subito un provvedimento che potremmo fare subito sulle aree verdi possiamo coinvolgere i giovani nella cura del nostro territorio nella cura dei parchi delle aree verdi perché ne hanno bisogno già ci sono strumenti che utilizzano i comuni e fanno lavorare le persone magari corrispondendo anche un simile reddito di cittadinanza Livorno proprio oggi o ieri non mi ricordo ieri ha inaugurato il territorio di cittadinanza in cambio di lavori inerenti alle aree verdi e noi questo lo possiamo fare riguardo alle aree verdi credo che un progetto molto valido sia quello degli orti urbani l'ultima le ultime novità legislative del Geopact è insomma questo Garanzia Giovani che io lo chiamo lo schiavismo del terzo millennio sinceramente perché poi dovrebbero essere degli stage per i giovani ma in realtà diventano degli sfruttamenti io dico che siamo retrocessi dal punto di vista sociale e civile mi pare questo un medioevo contemporaneo da certi punti di vista perché questi giovani perdono anche poi la fiducia in se stessi rispetto al mondo del lavoro perché uno stage dovrebbe inserire nel mondo del lavoro al meglio un giovane quindi il fine ultimo di Garanzia Giovani sarebbe quello poi di lavorare o a tempo indeterminato o comunque di trovare una stabilità occupazionale io quindi credo che nei progetti degli aree verdi sia importante anche questa cosa questa caratteristica di elaborare degli orti sociali sia per poter far partecipare a lavori socialmente utili quei cittadini che hanno diritto al reddito di cittadinanza e quindi usano il limite di orario di ore per per completare quello che potrebbe essere un livello reddituale e anche per fare in modo che ci sia una consapevolezza rispetto all'ambiente alla salubrità e soprattutto al biologico perché l'uomo è anche quello che mangia e sinceramente credo che il problema del biologico sia fondamentale perché noi siamo tempestati da inquinamenti sia di carattere diciamo chimico che anche a livello elettromagnetico per cui insomma il verde e gli alberi non fanno altro che tamponare questa situazione per concludere vorrei aggiungere una cosa e attenzione che noi abbiamo sempre uno o due randati da fare no? per chi è più giovane non guardate me però le prossime volte si lavora come si dovrebbe lavorare probabilmente c'è una tornazione anzi sicuramente ci sarà una tornazione quindi io penso che tutti siamo sindaci e tutti siamo consiglieri comunali io volevo soltanto dire una cosa riguardo la meritocrazia io spero nel Movimento 5 Stelle affinché la meritocrazia non si risolva in quel discorso che bisogna essere figli o nipoti o amanti di qualcuno per poter lavorare anch'io c'ho una figlia che sta in Spagna e non mi sono rivolto mai a nessuno per dirle guardate vi ripetono il voto mancano del lavoro io spero che mi sono rivolto in questo senso perché cambi veramente una forma mentis e che siamo tutti quanti responsabili verso i giovani e verso quelli che vogliono lavorare allora vi faccio la domanda siamo a maggio 2016 elezioni finite tu sei sindaco di Latina ok con te ci sono 15 consiglieri dopo sei mesi tre di loro perdono la testa e vanno dall'altra parte cosa fai? abbiamo un'altra riporna questo caso? uno ha avuto mandato di fare il sindaco a provare a fare quello che riesce a fare con quelli che sono rimasti e poi ce la fa non ce la fa non ho mai idea il problema al licorno nasce da lontano perché evidentemente quel gruppo di persone era un gruppo di persone che si è dovuto mettere insieme per arrivare ad una lista comune e ha prodotto evidentemente dei diversi modi di vista e quindi quello che è successo potrebbe succedere qui da noi noi abbiamo un'età che ha lavorato e sta lavorando insieme gomito a gomito e anche a volte ci sono stati degli scontri probabilmente ma sempre pagati e civili divergenze di opinioni però il gruppo è sempre stato coeso quindi credo che questo non avverrà a meno che vabbè gli umani poi impazziscono e li fai vabbè Fabio è fatto il caso apocalittico nel senso che straordinario sì no in quel caso è regolato è regolato dal tu e l'aggiunto che poco da fare se non hai l'appoggio se non hai la maggioranza non ne passa più niente quindi no però come diceva giustamente Pasquale a Livorno c'erano più gruppi hanno voluto raggiungere fare una lista mettere magari insieme persone che con cui magari c'erano anche delle visioni politiche diverse perché tornando al discorso del meetup dei meetup dei tanti meetup al di là delle delle dinamiche decisionali che sono state eluse evase da qualcuno che non voleva magari assoggettarsi a un'assemblea soprana e definitiva e io ho notato anche delle visioni politiche un po' diverse cioè io ho sentito parlare anche di porti ho sentito parlare di non ricordo Marco forse forse lo ricordo di meglio di me la voglia dei tenuti quando noi abbiamo appunto dei giovani no quest'estate esatto quindi bisogna anche vedere se c'è una visione politica di insieme uguale e io credo che questo gruppo e chi si avvicina a questo gruppo ce l'ha poi come diceva Pasquale il mondo delle possibilità è infinito il movimento nazionale sappiamo che è restivo alle alleanze gli esperti politici locali rispetto tra le virgolette dicono che il nostro più grande errore in campagna elettorale sarà quello di non allearci con nessuno io a questa domanda rispondo sempre che noi non è vero che noi ci abbiamo i nostri alleati i nostri alleati sono la propria la repubblica le forze le forze dell'ordine cittadini questa è la mia risposta volevo chiedere invece voi che siete candidati portavoce c'è qualcosa altro da aggiungere qualche altra categoria da aggiungere tra le tre che sicuramente condividerete io personalmente rispondo come potrebbe rispondere Beppe Grillo nel senso che non esiste un alleato esistono le idee quindi se l'alleato o non l'alleato ha un'idea che la nostra diciamo la nostra intelligenza collettiva vede una buona idea come buona idea noi andiamo avanti tranquilli ad appoggiare quest'idea quindi lo fa Beppe lo dice Beppe in maniera molto chiara e io sono perfettamente d'accordo con lui su questo ci sono soltanto le idee non c'è ideologia dietro perché anche l'altra volta ho sentito dire Andrea qualcuno che diceva che ancora l'ideologia è quella che fa muovere il mondo sì però magari dietro a questa ideologia ci sono molti che sfruttano questo questo discorso poi si sfrutta anche non so il tifoso della Juve piuttosto il tifoso del Milano diventa quasi una casacca noi invece no noi dovremmo andare dietro le idee se un'idea è giusta dice lui è giusta che sia che si dà di destra che sia di sinistra e lo dice lui non lo dico io credo che sia tutto l'affermazione che fa Pasquale io anche sono d'accordo con questa opinione e poi credo che ecco la risposta più giusta è quella di far funzionare le istruzioni perché debbano essere le migliori alleate tu per cui scusate volevo dire se qualcuno vuole fare delle domande si facesse avanti perché il microfono non arriva fino in fondo non appena abbiamo un appena di Pasquale voglio ripetere una cosa che deve essere chiaro a tutti che chi va a votare per i consiglieri deve considerare anche la possibilità di votare anche i quattro candidati portavoce a consigliere non vogliamo che si verifichi che magari le persone distinguano i due ruoli e non vengano votati anche come consiglieri magari dove qualcuno c'è la simpatia di averli anche come consiglieri quindi di non escluderli ricordatevi che potete votare i quattro portavoce anche come consiglieri ok la domanda è molto terra terra mi ci sono scontrato in questi mesi perché da padre separato devo andare negli uffici in orare di lavoro e per me è diventato un grande problema vorrei capire se avete qualche idea per rendere più fruibili i servizi nella pubblica amministrazione che dovrebbe essere un servizio per il cittadino ah volevo aggiungere una cosa al riguardo no perché l'ufficio anagrafe di Latina per poter accedere bisogna andare due volte a settimana mi pare che è una cosa assurda cioè in nessuna città civile succedono queste cose no poi non c'è contemporaneamente non c'è possibilità c'è un gioco in Europa ma noi anche al tavolo dell'abbattimento delle barriere architettoniche al di là delle barriere architettoniche per le persone che hanno disabilità motore abbiamo pensato anche all'abbattimento delle barriere architettoniche in genere ma voglio dire barriere comunicative anche per persone che hanno delle disabilità sensoriali ma questo si inquadra in un'ottica appunto di migliorare la vicinanza tra il servizio pubblico e il cittadino e lo puoi fare fisicamente bisognerebbe o incrementare gli orari di apertura o lo puoi fare aumentando il personale quindi lì bisognerebbe sempre andare a vedere nel dettaglio se hai la possibilità di farlo altrimenti a parità di personale a disposizione uno dovrebbe informalizzare informalizzare quella è l'unica soluzione perché altrimenti materialmente ha bisogno sempre di più risorse o andare a vedere se quelle risorse vanno utilizzate bene per il servizio massimo non andare a lavorare sempre di efficienza o lavorare sull'efficienza o lavorare sull'informalizzazione se non si può aumentare la forza lavoro a disposizione per dare più servizio questa come soluzione generale perché poi non conosco la situazione specifica sì informatizzazione sicuramente ma regole regole e far funzionare gli organi di valutazione nell'amministrazione pubblica che già sono predisposti cioè già c'è tutto cioè qui il problema è che noi cerchiamo sempre delle risposte o comunque delle soluzioni fantomatiche ma qua c'è già tutto bisogna far funzionare le cose esistono gli organi di valutazione che non funzionano già predisposti per legge di fatto operanti ma operano male e quel caso dell'anagrape di cui parla Marco lo conoscevo anch'io infatti quella cosa è assurda e quindi regole o informatizzazione e funzionamento degli organi già preposti a valutare l'amministrazione informatizzazione e informazione soprattutto perché molto spesso negli uffici pubblici c'è un'infografica che fa veramente pietà scusate se uso questo termine e il cittadino non riesce a volte a capire a leggere perché magari è un'infografica fatta con così tanto squallore che non colpisce e non attira l'attenzione di chi necessita avere le giuste informazioni allora io voglio farvi complimenti perché siete stati all'altezza del compito che comunque vi state assumendo davanti al meetup in futuro si spera anche davanti ai cittadini insomma e quindi complimenti a tutti e quattro perché siete stati tutti all'altezza del vostro compito e poi una domanda un po' ironica vi faccio perché venendo dal mondo dello spettacolo divento un po' cattivo in questo caso però una domanda che voi avreste voluto che vi facessero e che non vanno fatto quindi fatevi una domanda e datevi anche una risposta no no ma va bene hai detto che mi devo fare una domanda e ce ne sarebbe diversa una sola no sinceramente è una domanda no sono sicuro guardate sinceramente io lavoro a Pomezia quindi la mattina esco alle 7 arrivo sul posto di lavoro all'8.15 poi faccio la mia giornata lavorativa scendo giù però noto che sono sceso giù io in qualche modo chiudo tant'è che vengo da voi facciamo i tavoli di lavoro facciamo altro io ho sbisciato sono sicuro che quando stiamo invece al comune conoscendoci conoscendomi e vedendo che quella invece è un'attività che deve essere portata avanti con una certa serietà noi lì dovremmo dare molto tempo del nostro spazio insomma come poter dire al comune e questo sicuramente comporterà non so avere meno tempo libero sicuramente e quindi dare un nostro impegno molto maggiore perché siamo davanti alla cittadinanza la cittadinanza ci vede sempre con un occhio particolare no vorremmo cambiare il mondo ma come lo facciamo se poi alla fine non ci impegniamo molto di più di come si potrebbe impegnare gli altri gli altri hanno diciamo la parte economica abbastanza forte che li legge ma anche la possibilità di dare lavoro noi questo non ce lo possiamo permettere non lo vogliamo fare però i cittadini ci devono anche riconoscere che quando lavoriamo dobbiamo lavorare con serenità e con competenza le domande le domande sono state fatte tutte quindi la domanda magari se non fossi scelto come entrare nella lista se continuerò a fare l'attivista la risposta è sì la domanda forse ho risposto già all'inizio che quando mi sono chiesto ma chi me lo fa fare è il senso del dovere credo che sia doveroso poi poi chiaramente i cittadini giudicano scelgono e insomma noi siamo corpo pubblico come ho detto prima e lavoriamo insieme il po' prima bravo a me interessano sempre molto le persone al di là delle perché la stessa cosa in mano a persone diverse poi ha sempre risvolti che variano quindi volevo sapere da tutti e quattro do le tue parole il difetto il mio il mio pregio parto da questo perché penso che la mia carriera professionale mi ha dato la possibilità ma perché nel nel campito nell'ambito diciamo dell'industria metalmeccanica abbiamo avuto la possibilità di crescere quindi di essere diciamo molto pragmatici e trovare subito delle soluzioni quindi queste soluzioni che magari non sono perfette al 100% ma potevano dare insomma un buon risultato e questo lo diciamo e devo riconoscere che l'ambiente di lavoro in qualche modo mi ha mi ha reso così per quanto riguarda invece il difetto forse sono un po' chiincazzoso no questo no allora questo no comincio prima col difetto sono testarda e quando voglio quella antipatica e mi riconosco un pregio che è quello di essere in patica il difetto no io sono inchiazzoso Pasquale cioè magari garantisco che Pasquale non è inchiazzoso io ecco questo è un difetto credo il mio uno dei miei maggiori difetti l'irascibilità e il pregio me lo dico da solo ma più che un pregio è un coltivare un'attenzione alle cose e cioè il coraggio è quello di ma credo che è una cosa che possiamo raggiungere tutti quanti non è con natura dall'uomo e quindi spero di riuscire a coltivarlo anche in futuro insomma difetti c'erano tantissimi o proprio tanti i pregi non lo so c'è soltanto questo che per me i pregi sono quelle sfide che ho avuto con me stessa ogni volta ogni qualvolta che mi si sono creati degli ostacoli no da superare dei problemi e mi sono dovuta sfidare con me stessa e misurarmi con me stessa quello penso che sia un pregio il fatto di aver superato dei miei limiti tutto qui questo è un pallino che io ho è quello dell'informazione informare i cittadini la mala politica ha bisogno della disinformazione la buona politica ha bisogno dell'informazione ad oggi io non credo che abbiamo ottenuto grandi risultati per quanto riguarda la sensibilizzazione dei cittadini al movimento quindi voglio augurarmi che quando chi di voi andrà come portavoce e i consiglieri che ci saranno una delle prime cose che faccio è quella di creare un pool di persone che lavorino proprio sull'informazione sul comunicare con i cittadini quello che faremo è quello che ci sarà quindi quello che vorrete fare no non capito la domanda la domanda è se lo faremo cioè come potremmo impostare la comunicazione con il cittadino secondo me dovrebbe essere questa se lo condividete allora tipo una cosa che potremmo cambiare secondo me sono le modalità di partecipazione di cittadina di ricezione anche politica importanti del comune perché tipo il regolamento comunale già prevede le forme di partecipazione noi ne dobbiamo solo migliorare tipo prevedere anche che ne so dei tavoli con associazioni quando si tratta di dover prendere delle decisioni importanti su dei tavoli caldi faccio un esempio Barbaro ha provato a farlo l'ultima volta sull'edilizia ha lanciato una piccola iniziativa di partecipazione di coinvolgimento anche del cittadino e poi parliamo di comunicazioni dirette e mediate rimangono sempre i canali i canali quelli del comune il sito forse va a migliorare la comunicazione come dicevamo la collettività informatica quindi lo streaming dei consigli o l'aggiornamento della pagina del sito ufficiale va a migliorare probabilmente il sito del comune che ne so aprendo anche dei canali di feedback con il cittadino stesso del tipo come trovi questo servizio è utile è inutile delle cose abbastanza banali come li troviamo anche su dei siti commerciali dove andiamo a comprare online ad esempio quindi l'amministrazione in alcuni casi potrebbe copiare questi buoni come dire buoni esempi che ci vengono dalle realtà privati a questo mi viene in mente in questo momento la domanda era un'altra no io ho separato la partecipazione nella cittadinanza nel senso di prendere le recezioni insieme dalla comunicazione invece quando dobbiamo comunicare qualcosa di immediato tramite una parte o qualcosa altro se tra le priorità di una volta che siete arrivati ad essere portavoce sindaco c'era anche quella di creare un po' di persone professionisti professionisti dell'informazione per cercare di sensibilizzare la cittadinanza se era fra le priorità questa è la domanda se la vedevate come una cosa importante ecco tutto qua sicuramente la domanda che fai è quello che chiedi è una cosa importante io però voglio sottolineare che noi il programma ancora non lo abbiamo realizzato quindi questa dovrebbe essere comunque un'attività da portare nel programma quindi chi poi andrà a fare diciamo andrà a comune c'è una possibilità cercherà di attuare il programma se il programma c'è che è stato in qualche modo condiviso dagli altri quindi lo si mette probabilmente lo si porta questo si Tony fare come Buffaro che quando entrò in regione Sicilia assunse decine di giornalisti per fare l'ufficio stampa non mi sembra il caso noi stiamo lavorando e abbiamo iniziato a lavorare abbiamo un programma per l'urbanistica lo stiamo facendo con l'apporto di un giovane ricercatore molto in gamba già abbiamo fatto un incontro e per quanto riguarda il campo dell'urbanistica un campo di intervento assolutamente ineliminabile per noi perché sappiamo come l'hanno ridotta la città stiamo studiando un modello senza inventarci nulla ripeto perché qua non c'è nessuno che si sta inventando niente per coinvolgere i cittadini nel momento in cui si va a variare in maniera non superficiale ma di sostanza un quartiere un'area quindi siamo studiando un modello in cui ci sarà l'amministrazione i cittadini e un mediatore che può essere l'università può essere un tecnico può essere qualcuno che faccia che spieghi ai cittadini che cosa stanno facendo su un'area perché sono temi specifici non tutti chiaramente possono sapere che cosa significa un nome di urbanizzazione o qualcos'altro di specifico e di tecnico e questo è un campo su cui vogliamo lavorare molto perché ripeto sull'urbanistica si giocherà molto il futuro di questa città e anche nella campagna elettorale perché ne voleranno ripetiamo sempre il piano regolatore a cubatura a zero che fa ridere però bisogna smascherarlo bisogna dirglielo che fa ridere bisogna dimostrargli che non hanno la credibilità di poter parlare di operare la loro a cubatura a zero che peraltro non significa niente però tecnicamente scusate chi c'è che deve votare ancora allora allora se mettete già in fila qua perché adesso abbiamo due postazioni abbiamo quindi io vorrei ringraziare la commissione elettorale che è molto il caffè è pagato allora ci sono qualche domande? allora la graticola è finita ragazzi siete stati bravi abbiamo portato a spettare i cittadini complimenti a tutti comunque che siete stati veramente bravi ci c'è ha spiegato la mia mano Marco Michela Michela ci vuole Michela siete stati bravi lontana proprio dai cittadini comunque inarrivati ero un cittadino normale e ho visto ben pervito così questo comico parlare nelle piazze con molta determinazione e mi ha preso molto mi ha fatto scattare quella molla perché alla fine la politica decide la nostra vita comunque e quindi dobbiamo per forza fare qualcosa perché vediamo i nostri territori come stanno degradando comunque in modo molto veloce a livello economico ambientale sociale quindi c'è un vero disagio proprio a livello comunque nazionale entrare comunque in politica e cercare di di fare innamorare anche gli altri cittadini che ancora la vedono molto lontana e non si fidano più comunque perché questi politici fanno di tutto per far lontanare i cittadini con la loro brutta politica del cliente innamorare comunque e far sempre lavorare i loro amici e lasciare indietro le persone comunque quindi penso che cittadini che abbiano voglia comunque di imparare e far avvicinare gli altri che ancora non vedono questa politica come una soluzione anche per la loro vita io sento tante persone ancora si lamentano C'è qualcuno che vuole fare una domanda a Gietano? Non a me a lui Prima di passare la parola a Massimo volevo ribadire il fatto che allora terminate le votazioni ci sarà lo spoglio e poi in caso di inseguo ci sarà un'ulteriore votazione per i casi appunto di di ex ego per le punti di posizione quindi cerchiamo insomma di fare uno sforzo fino alla fine e poi magari ci andiamo a mangiare qualcosa tutti insieme e ci facciamo gli auguri grazie buonasera a tutti sarà una breve presentazione in un comizio e insomma sono assoluti sono iscritto a mi tap dal 2011 però frequento un po' più attivamente per lo senso della parola al 2013 le cose personali sono scritte nel foglio di curriculum ho partecipato attivamente a qualche tavolo soprattutto per la legalità e mobilità e opere pubbliche abbiamo seguito l'indagine diciamo così abbiamo contribuito a stilare un quadro del trasporto pubblico locale riguardo legalità abbiamo trattato quindi sull'immigrazione sui problemi dello sportello unico latina che ci sono stati vabbè tante altre piccole cose adesso neanche le ricordo tutte sono comozionato sono attualmente l'organizzazione non è l'indedito basta diciamo che come lavoro faccio il perito assicurativo nonché anche l'accertatore sempre in campo assicurativo quindi con un particolare occhio attento alle trovi assicurative perché forse c'è un po' innata la legalità e l'onestà trasmessa anche magari da mio padre che è stato in polizia quindi abbastanza quadrato per i militari e nel momento 5 stelle le trovo questi voti grazie Palma Emanuele buonasera sono Emanuele Palma nata a Napoli nata a Napoli di Ruppi dal penso 1910 non so 1910 1910 vi avviciniamo vivo qua a Latina si sente? giralo così scusate qui a Latina mi occupo normalmente di marketing e comunicazione a Napoli ci sono solo giusto cresciuta andata e cresciuta poi ho vissuto molto in Italia le cose più importanti che mi interessano sono il lavoro le parità di igiene e legalità diciamo all'attivo ho tre invertenze sindacali perché sappiamo come funziona chi a Latina è anche peggio penso di non avere c'è molte cose che stanno scritte non penso che sia tutto adesso adesso abbiamo veramente finito con le domande quindi dobbiamo soltanto aspettare lo sfoglio adesso che deve poter ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti